Signori, benvenuti in questo video, qui siamo sempre nella nostra villa residenziale a Dubai e oggi vedremo da vicino una delle macchine che non è mia ma del mio team che abbiamo noleggiato perché la mia deve ancora arrivare, che è una McLaren 720, valore 280.000 euro ovviamente da 720 cavalli ovvero quella che ho dietro, veramente molto paurosa a livello di statistiche, molto paurosa anche a livello di velocità e non sembra anche dal sound che li abbia, 720 cavalli, fa un caldo boia, dalla madonna sta al sole la macchina, 720, McLaren, potenza, qui c'è la dottoressa che non esce dalla macchina che dici? Mi fidate? No, sì dai ci fidiamo molto bella, ora ho montato anche il supporto per Insta360, la vedremo sia alle riprese da qua che da dentro in modo tale da capire anche nel migliore dei modi come la macchina reagisce e spero che tenga l'asta, di regola dovrebbero tenere le ventose quindi gli scalchi sono veramente paurosi e McLaren ha fatto un ottimo lavoro con questa macchina in modo tale da capire anche la macchina signori, ecco la McLaren da dentro, uno dei nostri, del mio team che la sta guidando allora, ora stiamo andando a prendere la mia personale di macchina e allora da dentro è spaziale, questi sono gli interni, siamo quasi senza benzina però davvero molto molto bella, questo è folle, drive, retromarcia qui c'è tutto, c'è un piccolo navigatore, c'è tutto il panel il panel, stai attento, ora devo mazzoppare questo tipo qua così è bella, visto da dietro e stiamo a belli carichi, siamo qui a Dubai, purtroppo avevo voluto registrare prima ma non ce l'ho fatta grazie a tutti